Tutto approfittiamo di finire di truccare insieme Iniziamo appunto con con le tracce con le tracce con le tracce dal momento che stiamo finendo di truccare e questo burst del contone non ci facciamo un po' di tre con tutti ok 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 passo per le città ma ok 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 Alla prossima unire di questo unire di questo unire di coloro aggiungiamo unire di colori unire di colori e quindi unire di colori e quindi unire di colori Grazie a tutti Grazie a tutti Mi sto truccando a finestra chiusa Sto morendo Adesso ci spazzoliamo Ci spazzoliamo un pochino I capelli Oh Preparo su questa spazzola Nuova che una Cucu Guardate che bel colore Guardate che bel colore Di qui Guardate che bel colore Guardate che bel colore Guardate che bel colore e adoro il blush e il blush e adoro il blush e adoro il anche se è libero prima di passare a fuori buona giornata a tutti ci siamo preparati a iniziare un gruppo di ASLR abbiate pazienza perché me lo chiede lo so che magari a qualcuno non gliene frega ma a quelli che ti interessa passato questo periodo di lavoro estivo torno con le live ieri sera la volevo fare ma ce l'ho fatta grazie a tutti in pace